Buongiorno, ma buongiorno a lei signor giornalaio. Mi dica, come posso esserle utile? Mi chiamo Antilio e mi sono da poco trasferito qui a Monterutondo. Invecele, io mi chiamo Andrea. Mi dica, potrebbe darmi qualche informazione sulla sua edicola, così che io possa decidere se diventare un suo cliente? Ma certo, sin da subito le dirò che qui in edicola in viaggi di Monterutondo siamo aperti 360 giorni l'anno. L'orario dalle lunedì al sabato la mattina va dalle 5.45 fino alle 13. Nel pomeriggio riapriamo alle 13.15 fino alle 20, tranne la domenica e siamo aperti solamente la mattina dalle 6.30 fino alle 13. Interessante ciò. Il giorno sulla pagina Facebook dell'edicola in viaggi di Monterutondo troverà le foto di tutte le riviste uscite. Mi piace questo servizio, mi piace, mi piace. Se possiede uno smartphone con l'applicazione Whatsapp potrà ricevere le foto delle riviste che sta aspettando. Ottimo direi, credo che da questo momento diverrò un suo affezionato cliente. Diverrò un suo affezionato cliente. St'oggi il signore Attili ha fatto la cosa giusta, perciò tu cosa aspetti? Ma cosa fai ancora lì palato? Corri l'edicola, ti stiamo aspettando.